Vieni, vieni, dai, fai questa foto, dai, su, dai, 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 un altro, dai, 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 sei bravo, sei buono, dai, ma resti, se non ti riesco a fattela, grazie Marco, Oddio, scusate, vai a mettere i secondi ma esco però, manca un'altra volta a scrivere, oddio, la signora è dietro, autografo Marco, mamma mia, no, non riesco perché c'hanno i telefoni, sono tre ore che sei qui, scusa, grazie, Marco, Cioè, sono allucinanti, mi spingono il braccio, grazie, eh, no, non riesco, è impossibile, è bella, a lui riesco, si è ritirato, vale anche, o rimani alla Roma, lascia perdere la Juve, lascia perdere la Juve, conti, non c'hai pensato, non l'ha fatto, non l'ho 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 fatto.